Rientra l'alerta meteo, le previsioni parlano di un miglioramento per le prossime ore, domani scuole aperte in tutta la provincia di Lucca. Mercoledì chiude via in Grillini, cominciano i lavori per realizzare il nuovo sottopasso, previste alcune modifiche alla viabilità per affrontare i problemi del traffico. 5 assunti dopo il corso formativo, il 50% degli allievi che hanno partecipato ad un corso organizzato da Formetica hanno già trovato lavoro. Ecco la stagione autunnale di spam, spettacoli di teatro, danza e musica, incontri letterari e molto altro ancora dal 15 novembre al 21 dicembre. Lo sport, il calcio e l'ora del derby, provaci ancora Lucchese, domani sera alle 20.45, rosso e neri impegnati a Pisa nel derby numero 87 della storia. I motori, Andreucci, una serata speciale a Noi TV, il campione Garfagnino 8 volte tricolore rally, sarà ospite dei nostri studi venerdì 14 novembre alle 21 e risponderà alle domande dei tifosi da casa. Buonasera, ben trovati per questa nuova edizione del TG Noi. In primo piano il maltempo, l'allerta meteo che era prevista per oggi, per fortuna invece non si registrano danni e disagi sul territorio della provincia di Lucca. Dunque allerta che sta rientrando, domani scuole aperte in tutto il territorio. Sentiamo Luigi Caisentini. Scuole chiuse, strade semideserte, attività quasi sospese del tutto. Questi gli effetti dell'allerta meteo diramata dalla regione toscana che prevedeva piogge intense e bombe d'acqua su tutto il territorio versiliese. I sindaci dei comuni costieri e del commissario prefettizio di Viareggio avevano quindi firmato un'ordinanza di chiusura delle scuole in via precauzionale. Fortunatamente l'ondata di maltempo è passata senza particolari danni. Scende a moderato quindi lo stato di allerta emesso dalla regione toscana per la Versilia. Rientrate quindi tutte le ordinanze di chiusura dei plessi scolastici, le cui lezioni riprenderanno legalmente venerdì 7. Considerate infatti le condizioni meteo, la protezione civile regionale ha declassato il livello di allerta per tutta la Versilia, confermando che durerà fino alle mezzanotte di giovedì 6 novembre. In alcune zone si sono comunque registrate ristagni d'acqua e tracimazioni del reticolo idraulico minore, a causa delle comunque forti precipitazioni della seconda parte della mattinata. Viene invece confermata l'allerta di tipo moderata a Minucciano, mentre diviene ordinaria la criticità che interessa il resto della Valle del Secchio, Lucca e Lapiana. Si è riunito questa mattina a Lucca il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica dedicato alla situazione nel comune di Viareggio. Le varie forze dell'Ordine hanno garantito la massima attenzione tra i progetti. È stato esaminato quello finanziato dalla Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana, che prevede l'installazione di telecamere e di videosorveglianza finalizzate a supportare l'attività delle forze di polizia. Il commissario prefettizio di Viareggio ha annunciato maggior controllo da parte della Municipale. Per la cronaca, l'intervento della polizia ha sventato un furto che un malvivente voleva mettere a segno in un'abitazione dell'Arancio alle porte di Lucca. L'allarme al 113 è stato dato da un giovane che solo in casa ha sentito dei rumori provenire dal terrazzo e poi infrangersi il vetro della porta finestra. L'arrivo della polizia si rena spiegata e ha messo in fuga il ladro che è stato visto da un vicino scappare aggrampandosi alla grondaia. E sempre la polizia di Lucca ha denunciato un cittadino marocchino di 31 anni, residente a Reggio Emilia, per maltrattamenti, lesioni personali e violenza privata. L'uomo è accusato di aver picchiato e maltrattato la moglie che dopo mesi di sofferenze è scappata fino a Lucca pur di fuggire al suo aguzzino. I carabinieri di Gallicano hanno denunciato quattro persone per un furto di generi alimentari avvenuto in un supermercato della zona. Dopo la segnalazione del titolare del negozio i militari hanno fermato l'auto sulla quale viaggiavano i quattro carica, lo vedete, della merce risultata rubata. E adesso parliamo dell'opera molto attesa, il sottopasso in via in grillini, mercoledì il via dei lavori e ci sarà anche la chiusura della strada. Il conto alla rovescia è iniziato. Mercoledì prossimo, 12 novembre, cominceranno i lavori per realizzare il sottopasso in via in grillini con la contestuale chiusura della strada. I dettagli dell'operazione sono stati dati dagli assessori Celestino Marchini e Valentina Pierotti al fianco dei tecnici del comune di Lucca e del comandante della polizia municipale Stefano Carmignani. Rispetto al progetto di qualche anno fa il sottopasso sulla linea Lucca-Firenze non avrà alcuna curva e sarà più largo e più alto in modo da agevolare il passaggio dei mezzi anche pesanti. Via dei Macelli non sarà più collegata via in grillini ma si congiungerà direttamente a via San Filippo. Tempo di realizzazione un anno e mezzo. Un'opera importante che consente due cose nello stesso momento, di rendere molto più fruibile il traffico mercio lungo la linea ferroviaria e allo stesso tempo anche il traffico veicolare lungo la viabilità della zona. Quindi un'opera su cui noi abbiamo chiesto una modifica al progetto alle ferrovie dello Stato, quindi è stato concordato con loro un progetto migliorativo, molto più rettilineo, più fruibile, più accessibile che quindi consentirà nel futuro di avere un'opera pubblica migliore rispetto a quella che era stata ipotizzata. E la chiusura di via in grillini ovviamente causerà anche dei problemi al traffico e per questo il Comune di Lucca ha studiato, sta studiando delle soluzioni. L'inizio dei lavori al sottopasso e la chiusura di via in grillini comporteranno dei problemi almeno iniziali alla viabilità della zona e così il Comune di Lucca ha studiato delle disposizioni speciali anche perché via Fontanella registrerà un aumento del traffico. I mezzi superiori ai 35 quintali o ai 6 metri e mezzo non potranno più passare da via della Chiesa, via di San Filippo e via Fontanella ma dovranno utilizzare il via L'Europa e poi le altre strade di San Concordio per raggiungere Mugnano. Il tratto di via della Chiesa tra via di San Filippo e via Antonioli diventerà senso unico con direzione verso via Antonioli. Da mercoledì la Polizia Municipale sarà nella zona per monitorare la situazione. I cittadini potranno inviare le loro osservazioni alla mail stradechiocciolacomune.luca.it e ogni 15 giorni l'assessore Marchini riceverà i residenti all'ex circoscrizione di San Concordio a partire da sabato 29 novembre dalle 11 alle 12 del mattino. E domani sera alle 21 l'assessore Marchini sarà ospite dello speciale TG Noidido per presentare nel dettaglio il progetto del sottopasso, la viabilità alternativa durante i lavori e per rispondere alle domande di voi telespettatori. Appuntamento domani sera su Noi TV alle ore 21 in diretta. E adesso parliamo di formazione, formazione professionale che riesce a dare i frutti, dunque le persone riescono a trovare lavoro. Vediamo. Formazione e specializzazione per trovare o ritrovare lavoro. La conferma arriva dal percorso formativo di tecniche per il montaggio e manutenzione elettromeccanica organizzato da Formetica finanziato dalla provincia con le risorse del Fondo Sociale Europeo. 13 allievi hanno partecipato al corso della durata di 454 ore realizzato in stretta collaborazione con le aziende CMG Costruzioni Gambini e Fosber che sulla base delle esigenze del settore hanno individuato i contenuti formativi necessari all'alta specializzazione delle figure professionali. Gli allievi hanno partecipato ad alcuni stage presso una decina di aziende e cinque di loro sono stati già assunti. Uno lo sarà nei prossimi giorni. Noi abbiamo proprio sviluppato questo tipo di corsi mirati sulle esigenze delle aziende proprio per facilitare lo sbocca al lavoro. Oggi noi siamo qua a dare l'attestato a questi studenti, 13 studenti, che praticamente la metà sono già piazzate nel mondo del lavoro. Questa sia l'indicazione primaria di come fare formazione sulla specificità delle richieste aziende sia premiate dal punto di vista occupazionale. Spazio alla cultura, questa mattina la presentazione del cartellone autunnale di SPAM. Sono previsti tanti spettacoli, tanti incontri a partire da sabato prossimo, 15 novembre. Spettacoli di teatro, danza e musica, incontri letterari e molto altro ancora. Ecco la nuova stagione autunnale di SPAM presentata a Palazzo Ducale. Il cartellone sotto la direzione artistica di Roberto Castello e Graziano Graziani si intitola Affari Nostri e si svolgerà dal 15 novembre al 21 dicembre. Gli spettacoli e gli incontri letterari si terranno ogni sabato alle ore 19. Gli spettacoli nella sede di SPAM in via Don Minzogna a Porcari, gli incontri letterari nella chiesa di Santa Caterina nel centro storico di Lucca. Si comincia il 15 novembre con La vita a un dente d'oro della compagnia Esecutivi per lo Spettacolo diretta da Claudio Morganti. Il 22 novembre il primo incontro letterario, Raccontare l'Italia oggi con Nicola Laggioia, premio Viareggio 2010. Il 12 novembre del 2004 moriva sul lavoro Matteo Valenti. Sabato alle 12, municipio a Viareggio, si terrà la presentazione delle iniziative ideate dall'omonimo comitato per sensibilizzare al tema della sicurezza sul lavoro, soprattutto le nuove generazioni. Mercoledì, 12 novembre, proprio nel decimo anniversario, lungo il canale Est, si terrà l'intitolazione della banchina a Matteo Valenti. È tutto per la prima parte del TG Noi, una breve pausa pubblicitaria e poi la linea alla pagina sportiva.